Tecnostampa è una serigrafia introdotta nel mondo industriale, quindi offriamo prodotti legati al mondo industriale come possono essere la tastiera membrana, la classica targa in alluminio, la targa matricola, la targa personalizzata di vario genere. Offriamo poi dei servizi di stampa su materiali che vanno nel settore dei suoi sitori del punto vendita e offriamo anche lavorazioni per il settore del legno, settore delle mobilitazioni o settore della carta tecnica. Il costante aumento di richiesta nel settore digitale ci ha portato a valutare delle soluzioni molto più produttive e qualitative. Siamo entrati quindi in contatto con il mondo di Fenix Digital Group e con il mondo delle stampanti su Wisco Print. Abbiamo trovato un prodotto estremamente qualitativo di livello industriale, quindi con delle tolleranze, con della precisione, con della qualità, con della costanza e della produttività nettamente superiore alle macchine che avevamo in precedenza. Così abbiamo deciso nel 2018 di introdurre la prima stampante di Wisco Print, una Nihala LED. Vista la problematica di crescenti picchi produttivi, abbiamo deciso di introdurre una seconda stampante e vista l'esperienza estremamente positiva che abbiamo avuto con la prima stampante, la Nihala. Abbiamo deciso di acquistare la nuova Kudu. Essendo i primi in Italia, crediamo fermamente che questo prodotto ci possa garantire un vantaggio competitivo e notevole. Una caratteristica estremamente importante di Kudu è la possibilità di essere personalizzata in base alle nostre esigenze. Abbiamo deciso di introdurre le tinte light oltre alla classica quadricromia, la tinta del bianco e la tinta della vernice per avere il più ampio portfoglio possibile di lavorazione. Abbiamo inoltre introdotto anche l'optional della stampa roll-to-roll, quindi ora siamo in grado di fornire una stampa fino a 3,20 m di larghezza in bobina. Ci sono stati numerosi miglioramenti anche dal punto di vista del software di gestione della stampante, che ha un'interfaccia grafica nettamente migliore e con numerose funzionalità in più rispetto alla versione precedente. Fenix si è dimostrato nel corso degli anni un pattern estremamente affidabile e ci ha seguito molto bene partendo dalla vendita fino al servizio di assistenza di post vendita del macchinario. Ci garantisce dei tempi estremamente stringenti di consegna sia degli inchiostri che degli eventuali pezzi di ricambio dell'assistenza necessaria. La stampa digitale non è un sostituto della serigrafia, ma noi all'interno all'azienda stiamo coltivando l'unione di queste due tecnologie in maniera da poter entrare il meglio da ciascuno dei due mondi e di creare un prodotto di estremo valore aggiunto che ci permetta di distinguerci dalla concorrenza. Per il futuro io vedo un incremento dei numeri del nostro business. In quest'ottica ovviamente Fenix e Swiss Cooprint hanno un ruolo estremamente importante e ci seguiranno sicuramente per i prossimi anni come ci hanno seguito molto bene fino ad ora. Grazie 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 Grazie